Scusate ragazzi per l'interruzione ma si stava per spegnere, Mattivo. Nemi sei pronto? Sì, sto scrivendo tutte le nostre cose. Oh madonna! Molotov, chi c'è? Due tipi. Tre? Tre. Doppietta? Vogliamo provarla? Sì, dobbiamo provare. Si sono rifocati tutti, che culo di merda. No, a parte quello no, quello no, quello no, è morto. Bella Daniele, bella di te l'ha avuto eh. Perché non te li segnalavo? Perché eravamo un piano più alto. Non ci sembra mai. Perfetto. Ho messo giù a otto là. Ok. Sì. Perché era l'inizio che... Granata? Ma io voglio anche vedere com'è la granata. Non l'abbiamo mai usata la granata. Ti è contento. Prendi la granata. Che figata è? Che figo. Sì. Ma ti ho detto di prendere... Ah, non puoi perché ce l'hai in mano. Capito. Perfetto, dobbiamo arrivare lì dal simbolo, ma ci saranno degli zombie sicuramente. Ma di che cazzo c'è... attiva. Attiva. Vai a prendere i cassonetti. Aspetta che qua ci non so, 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 non so. Adizione pistola. Ovviamente l'unica cosa che mi hai lasciato a casa. E' l'unica cosa che non riusciamo a prendere. Spingili. Spingili le gambe. No, le gambe, le gambe. chi ti è fuori. Spingili la gamba che è fuori ormai. No, la fanculo è tornata su. paura, te lo do colpo. Fa una paura la tipica... Vai di qua... Spingi. fai la spinta con una granata dacci la spinta che fa così no? forse è meglio se lo spingo più là che dopo lo spingo là vai spingi ah hai ragione la spinta, tendi così da non c'è la persona vabbè però ci servivano, va che vuoi è schifo però sta roba no vai al sonar, sonarizza quell'altro non c'è un cazzo quello va a fare in culo vabbè anche lì non è che tolcia me lo so, non ci scarichi ruba, che cazzo rubi rubi l'ascensore oh che cazzo hanno stipulato incollato col cazzo di oh 2 2 ovviamente un altro non riesce a vedere la città con la mano facciamo un po passiamo di qua se si può buona, l'ho aperto grande a seguita che sei fatta occhio l'ho fatta apposta per farti cagare lo stupito no non c'è niente, proprio devi stare attento, casino si scappolino chiudi e assicura si può assicurare c'è un'ascia se non le assi non le ho prese non ha importanza ora a sto punto andiamo l'altro ascensore era quello sicuro questo no no e adesso spiegatemi che cazzo ci fa uno zombie qua ah, voglio solo sapere è tutto giù da dove? da immaginavo 4 3 vai, scappa via vai in quell'altro ascensore 3 parti via io l'ho chiuso qua si sta spingendo la logica non si può chiudere a culo qua aspetta prima di attivarlo che guardiamo non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente qua sarebbero arrivate gli zombie quelli di prima ci sarebbero entrati Eeeh doppietta, questo gioco è pazzo eh, finito, va che sei forte la doppietta, hai visto? Io voglio un colpo, le ho preso alle gambe, come devo ricaricarlo? No, mi sta arrivando uno eh, mi sei voluto, ah infatti mi sembrava, ce ne fosse una, questo può si stracca uno di zogbia, prendi la doppietta, con la pistola, ma tanto è vero che abbiamo l'abbiamo pure potenziata, vuole prendere solo due ma a spa resta qua, però io faccio questo, abbiamo visto uno, prendi una granata portata, la molotov è portata di mano, Non, non, non è Andrea? C'è un altro gioco in questo gioco che si divertono, queste fragozze, questo qua No, non ho quello, ce ne sono due, ne hai due? Sì, secondo me è inutile, aprigli la porta. Spero con la carabina, non quella qui. Non si può mirare? Non serve, ho sbagliato. Chiuba, ma se lo uccide bene? Anche se lo svegliate ne varse la pena, tanto per vedere come uccideva. Ah, non mi era, peccato. Ma neanche gli altri miravano, no? Cosa sto ritrovando? Madonna, che schifo, vedo le stizioni di cuore. Ormai, se ci siamo abituati, fa crederci molto a venerdì, sopra il tavolo. Ma che schifo è? Sicuramente. Ecco lei, si svegna. Allora, hai avuto? Non Nina, hai avuto? Non voglio neanche vedere la schiena. No, ecco il condotto dell'aria, passati lì. Prima, guarda, usa il sonar. Vuoto. Non niente. Qua porta. Fugatela, fugatela. Si, arrampiti. Chiudi la porta. Chiudi la porta e andiamo a vedere cosa c'è di là. Dove? Eh, dove ci sono tutti gli zombie. E dove si è il bel appartamento. Si, li butto dentro un motocchi. Dove qua? Ah, non ho bisogno di senso. No, inutile. Prima di passare, controlla un po'. Sai che qua dove hanno preso le gambe è uno. Nella, nel trailer forse. Schifo. Questo qui si è ucciso opposto. Non ne poteva più. E questa è la cura di troppo. Che cosa è successo? Eh, puoi rubarla. No, vorrei chiudere io. No, no, questa qua sta pure chiusa. Vai, ruba. C'è. Ci ha messo la benzina e ha una molotov. C'è la prima lanciarsi una molotov. Un'altra. Beh, sono utili le molotov. Fa me la pena. Mettino al posto di questa qui. Non ti conviene. No, no, perché se ci fanno un piccolo danno bisogna curarli instantaneamente. Eh, ma se c'è troppa gente... Tant'è anche il medico. Ma quanto adesso? Uh, guarda lì dietro. Se dica a destra quando droga c'era. Grande. Kit di pronto soccorso grande. Si. Vedoci la dose. Tanto c'è la completa. Il cesso. Bello. E' fuori da zombie dal cesso, tematico. Inizio su pistola e il cesso. Mi sembra giusto. Quasi, quasi non lo userai. No, no. Eh, sì, sì. E mi cagherai in mano ora. E' lì sotto. Cioè devi sorbossare questi immobili. C'è uno lì e altri quattro. Allora, uno è lì. Poi dopo ce ne sono quattro, guarda, inizio. Il computer. Allora. Lo so che uno dice. Allora. Perché guardi il computer? Un percuno quando è teso non capisce un cazzo. Allora. Chiudiamo. Provare ad arampicarti qua. Dovrebbe esserci uno eh. Oso, guarda a sinistra. Qui. Usa il sonno eh. No, uno dovrebbe scavaccare qua. Non so se tanto uomo, eh. Fa come li sai sta fuori nil. Uncia armer tutto. E cosa so?